Quando ti butti in un progetto ci metti dentro tutto, il tempo, la dedizione, il lavoro, cerchi sempre di trovare qualcosa da migliorare perché se è vero che c'è sempre da migliorare, all'inizio c'è anche tanto lavoro da fare e per me è stato assolutamente così perché, come in tanti sapete, la mia esperienza nel padel, pur venendo da qualche anno di tennis in giovane età, è tutto sommato abbastanza nuova ma questo progetto mi stimolava, mi intrigava e mi gasava. Per questo motivo, dopo circa un anno in cui questo canale YouTube è diventato solo ed esclusivamente dedicato al padel, voglio fare un bilancio per voi ma un po' anche per me cosa è successo, cosa mi piacerebbe succedesse in futuro, come penso di sviluppare la nostra community da qui in avanti e tante altre cose insomma, faccio con voi un primo bilancio, senza però parlare di soldi, ve lo dico subito, guadagni, spese perché credo che sia giusto per voi solo il risultato finale, vedere solo quello e valutare quello tutto quello che c'è dietro è tanto, credetemi, ma meno rilevante secondo me per chi guarda quindi partiamo con il bilancio di Simone Mazzola Padel di questo ultimo anno circa e per iniziare bene il tutto vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto perché tante persone che guardano i miei video, lo vedo dalle analytics, non sono iscritti e non hanno attivato la campanella sì, anche tu, ti vedo che stai guardando altrove, fischiettando, come si faceva quando la professoressa interrogava e non si era troppo preparati, ce l'ho anche con te ora mettetevi comodi, preparate i popcorn che per una decina di minuti stiamo insieme e facciamo una bella overview vi divido il video in capitoli di modo che se vi interessa qualcosa in particolare dopo averlo visto magari tutto potete ritornarci e rivederlo senza stare a cercare a scrollare partiamo dal capitolo eventi onestamente non pensavo di partecipare a due tornei ufficiali in Italia e a un evento da addetto ai lavori è stato così per i Premier Paddle di Roma e di Milano e per Paddle Trend Expo l'esordio a Roma in compagnia di Emiliano è stato top per l'ambientazione, per la mistica del foro italico ma anche perché il primo contatto con il mondo pro diciamo che non si scorda mai partite, interviste, organizzazione super e tanti contenuti che sono atterrati qua sul canale compreso il primo vlog che ha raccontato la quattro giorni tra possibilità di fare uno shot di gioco con i pro e tanto altro nelle schede e in descrizione troverete tutti i contenuti citati in questo video e il vlog di Roma mi evoca sempre dei bei ricordi quando magari ritorno a guardarlo tutto degli spezzoni Premier Paddle di Milano è stato diverso, giocato diciamo in casa, molto più circoscritto ma che mi ha permesso di creare altri contenuti particolari per il canale è stato più un one man show perché per la prima volta ho lavorato completamente da solo bellissima esperienza anche questa, forse qualcosina da migliorare c'è perché da solo è davvero complicato fare questi tipi di eventi ma l'evento in sé è stato super. Infine Paddle Trend Expo una fiera e un evento veramente fighissimo che si ripeterà nel 2024 anche in questo caso invece ho lavorato in coppia con Mario abbiamo creato tantissimi contenuti sia per Instagram che vi invito, il profilo mi invito a seguirlo perché ogni giorno c'è sempre più materiale sul padel ma anche con un bellissimo vlog dell'evento che vi lascio come detto qui nelle schede non solo giocatori professionisti come Virseda, Bergamini, Rubio, Yangwas e altri ma anche networking, standisti, brand, negozi online e nuovi progetti nel mondo del padel un mix veramente di tutto se vi siete persi la versione 23 è fondamentale vi organizziate per la 24 perché so già che sarà davvero super il core di questo canale ovviamente rimangono le recensioni delle racchette che vi aiutano ogni settimana, spero, a scegliere la racchetta giusta per il vostro gioco ho iniziato collaborando direttamente con Emiliano Carchia di Padre Review e per partire era a dire poco fondamentale essendo anche un'ottima occasione di confronto e di crescita soprattutto per me poi da diversi mesi, diciamo col nuovo anno più o meno è diventato un lavoro che svolgo completamente da solo dal cercare le racchette, contattare i brand, trovare diverse porte chiuse non lo nego, all'inizio non è stato semplice ma è sempre così ora qualche porta si è aperta e la cosa più importante è che rimane aperta infatti posso dire di aver instaurato collaborazioni proficue con Bull Paddle, Siu, Xadidas, Tactical Paddle e altri brand quindi non poco. Questo ovviamente anche grazie a voi che mi seguite perché senza la vostra presenza e seguito non ci potrebbe essere tutto questo quindi ricordate di lasciare un like al video e commentare che aiuta molto la rintracciabilità di questo e tutti i video che metto online come vi dico sempre in totale trasparenza e lo reitero per chi magari atterra sul canale solo ora io non sono un maestro di padel, non sono qualificato ma sono solo un appassionato che gioca come voi ha la fortuna di testare le racchette e cerca ogni giorno di migliorare per darvi pareri sempre più affini alla realtà ma soprattutto alla realtà di tutti gli appassionati che frequentano i circoli come voi per questo sorrido quando ogni tanto leggo i commenti tipo sei scarso, torna quando saprai giocare eccetera magari chi li fa è in previa al World Paddle Tour e non lo so tutti possono dire quello che vogliono e hanno la libertà di farlo sto imparando a metabolizzare questi commenti negativi perché se le critiche e gli appunti fatti notare nei giusti modi sono motivo di crescita e anzi ringrazio chi li fa questo è un puro sfogo di frustrazione che probabilmente non ci toglieremo mai ma devo dire sono talmente pochi che sono contentissimo che chi segue il mio canale porti valori, commenti ed educazione quindi grazie a tutti voi che contribuite il mio target è chiaro, il mio livello pure perché vi metto da sempre video in cui testo le racchette quindi potete farvi la vostra idea e forse mettervi a disposizione questa trasparenza vi fa venire voglia di scrivermi, chiedere, contattare con altri anche tanti complimenti ed è davvero un piacere le recensioni poi sono soggettive nelle sensazioni e spero che comunque queste vi aiutino a comprare la racchetta giusta o almeno vi evitino di comprare quella sbagliata che poi è l'obiettivo di questo canale come tutti sapete nessun progetto serio e con un obiettivo vive di sola passione e dietro a questo canale e profilo Instagram entrambe le cose ci sono investimenti di tempo forze ma anche di denaro ovviamente per questo se vi piace ciò che faccio ritenete sia utile e soprattutto lo vorrete ho un profilo Paypal aperto qui sotto per il crowdfunding lo trovate anche in descrizione chiunque voglia contribuire economicamente anche un caffè in qualche modo a questo progetto per farlo crescere, evolvere e investire in novità sempre nuove trovate il link in descrizione ogni donazione sarà super apprezzata ovviamente senza obblighi è un crowdfunding quindi è libero io sarò comunque sempre qui a fare questo se volete sentirvi parte attiva di questo progetto potete contribuire avere contenuti sempre nuovi e di qualità anche grazie a voi avete innanzitutto contribuito acquistando le racchette da Sportnet che con il codice sconto che ha una piccola provvigione porta qualcosa al canale a tal proposito qui arriva la prima vera novità ovvero una nuova collaborazione con Padel Portress come vedete dalla mia maglietta si chiude qui il rapporto con Sportnet che ringrazio infinitamente per aver puntato su di me da subito e aver instaurato una collaborazione chiara, sincera e qualitativa se trovate la migliore offerta su Sportnet andate sul sicuro io continuerò a essere il primo fan di Armando e della sua crew ora tutti i link di acquisto che aiuteranno il canale li troverete su Padel Portress uno store online di base spagnola che sta espandendosi anche in Italia esclusivamente dedicato al mondo del Padel e che sta investendo molto ora tutti i codici saranno da questo sito e se volete aiutare il canale acquistate con gli scontri che potranno andare dal 10 sino anche al 20% dal portale di Padel Portress con il 10% di base che ci sarà sempre e il 20% che verrà usato solo per alcune occasioni andate a fare un giro sul loro sito e acquistate da loro per avere garanzia di competenza qualità ma anche per aiutare il canale ho la fortuna di essere all'interno della community di media sul Padel di tutto il mondo e tra spagnoli e argentini ma anche tanti altri oltre ovviamente a lavorarci dei professionisti di grande qualità c'è anche una solidarietà una spinta reciproca e una voglia di fare unione per il movimento molto positiva è una cosa che apprezzo molto e che mi piacerebbe portare anche all'interno del panorama del Padel italiano perché ci sono tanti creator con volontà, competenze e anche idee vedremo se riusciremo a metterlo in pratica un giorno intanto come prima cosa ringrazio voi che siete la community di Simone Mazzola Padel che commentate, seguite, mi scrivete sono davvero felice dei vostri feedback e spero che saremo sempre di più molto presto ora veniamo ai ringraziamenti in premis come detto Sportnet per aver puntato su di me agli albori Armando e i suoi ragazzi sono super e tenete sempre in conto di comprare su Sportnet c'è una buona occasione sono sicuro sarà un arrivederci e non un addio ma fino a qui è stato davvero un piacere grazie adesso a Padelportress il nuovo sponsor del canale e a Marco per aver voluto investire su di me e sul canale stesso con l'obiettivo di crescita comune quindi fatemi un giro sul loro sito e il codice è già attivo grazie a Francesco e a King Padel per l'appoggio sin dalle prime battute la collaborazione e la grande disponibilità sempre e comunque grazie a Emiliano Carchia di Padel Review ovviamente per un inizio insieme che è stata la miccia per far partire tutto grazie a Padel Trend Expo per una collaborazione che mi auguro possa durare negli anni per un evento super e poi grazie a un po' di nomi che magari per voi diranno poco ma prendeteli per buoni grazie a Dana, Benjamin, Fernando, Flor, Salvatore, Sole, Luis, Andrea, Mauri e ovviamente ai miei sparring partner barra registri Alessandro, Valerio e Edoardo che mi aiutano a registrare in campo e sono semplicemente fondamentali questo è stato il primo anno circa di Simone Mazzola Padel verticale su questo argomento spero di fare ancora tanti altri recap come questo facendoli ricchi di altre nuove collaborazioni contenuti, persone conosciute e rapporti umani di stima reciproca per qualsiasi brand o persona che sia interessato al canale a sponsor o suo partnership contattatemi o via direttamente da Instagram in direct message o nella mail che si ritrova nella linguetta info del canale YouTube se vi è piaciuto questo viaggio con me dovete per forza essere parte delle tappe che verranno quindi commentate fatemi sapere cosa ne pensate le vostre idee, proposte e iscrivetevi al canale oltre che seguirmi su Instagram ovviamente che sono le due cose fondamentali grazie come sempre della fiducia e ci vediamo qui per un prossimo video sul mio canale YouTube buon padre a tutti buon padre a tutti